Lazzaro è lui, il meglio che c'è in giro tra i poliziotti di questo paese. Negli ultimi tempi, un po' in tutta l'Italia, sono stati commessi cinque delitti senza moventa. Sono delitti diversi, ma c'è qualcosa che hanno in comune. Non sono coincidenze. Buongiorno, sono l'ispettore Simona Colli. Cinque anni fa Napoli, Simona e Lazzaro hanno vissuto insieme. Praticamente giorno e notte. Ho trovato, appuntato dietro altri foglietti, tutto il primo canto della Divina Commedia. L'inferno. Nove cerchi, tutti i peccati dell'uomo. Omicidio, russuria, superbia, violenza contro se stessi, violenza contro Dio, adulazione, usura, ipocrisia, imbroglio. Che cosa c'entra in università di Dante? Sappiamo che ha ucciso sette volte, il suo numero perfetto è nove. Mi mancano due vittime. E l'altra sono io. Anche. 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 Grazie a tutti